ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video puntatissima dedicata a voi che state guardando a voi che inviate i vostri video e i vostri orologi che poi sono contenuti nel video come partecipare lo sapete no caricate su waytransfer.com e poi mi mandate il link così lo scarico direttamente e poi ci divertiamo in orizzontale possibilmente 5 6 7 minuti 8 non esagerate da siate concisi veloci e presto detti come si suol dire vi voglio ricordare che domenica 12 maggio alle ore 15 ci sarà il quinto raduno del canale il quinto watch meeting ci incontreremo tutti assieme appassionatamente di fronte alla gioielleria pasquale domenici a via reggio nella zona pedonale antistante un raduno del canale che annualmente faccio per incontrare gli amici del canale voi che sotto nei video scrivete nei commenti voglio dare anche un volto a questi commenti che a questi nickname che compaiono quindi ci incontriamo poi si può anche entrare dentro al negozio di pasquale domenici ci saranno presenti alcuni personaggi di spicco uno su tutti umberto pelizzari che è uomo oris poi ci saranno esponenti di case orologiere con dei banchetti per farci vedere gli orologi insomma è un happening divertente per tutti vi aspetto domenica 12 maggio ore 15 adesso vi faccio vedere l'oriolo del giorno e ancora una volta questo bellissimo rolex explorer da 39 mm con il suo nero opaco quasi grigio oscuro sarei dire un bello orologio contenuto nelle dimensioni sottile sobrio come me adesso diamo il via i video barra spaziatrice pronta a subire colpi del destino e che il destino abbia inizio ciao davide benvenuto in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato agli orologi di mio papà sei fuori dal mondo qua vai grazie andrea della presentazione la presentazione di andrea è stata bella ma io non capisco qua perché c'è tutta una serie di sponsor ufficiali della vostra casa a parte che c'è la tovaglia fatta gatto miau no con le con le zampette con le impronte poi tutte le bevande il latte l'estate è il frullato l'acqua ma che roba è davide ciao io sono giuseppe da monza giuseppe il quarto video che mando direi di iniziare subito con l'orologio del polso appunto di andrea che è mio figlio di 11 anni l'orologio del giorno è questo fantastico glycine con il movimento automatico eta 28 24 ma quando ci sono di 34 mm ma sai tutto bello il combat questo con le sfere arancioni a contrasto bello bello assai mio è andrea te l'ho prestato sappilo ne approfitto ti faccio vedere anche il mio orologio del giorno che è questo 15 che è particolare a parte per il movimento che è un esa 91 54 che è un elettromeccanico momento non funziona ha avuto vari problemi però cercato di risolverli e non sono ancora riuscito a risolverli tutti però è praticamente sto calibro qua è quello che ho chiedete l'ongine esa quello fatto con il bilanciere tradizionale che oscille più c'è la tua parte elettronica elettrica per meglio dire come vedi è messo al polso lateralmente se perché pare che fosse utilizzato alla guida quindi una al volante e non deve distogliere troppo lo sguardo per continuare a girare il polso e vedere l'ora infatti vedi la cassa come diciamo come che forma particolare è ergonomica è molto bello è ha funzionato per un periodo poi ha smesso e insomma appunto è molto molto particolare ecco ok continuiamo la la mia esposizione con questi due orologi che sono al quarzo e va bene cd va bene un seco bravo e uno è un casio allora il caso è la particolarità che del della ricarica solare infatti c'è scritto anche senza batteria ed è questa particolarità diciamo il seco invece normale con la batteria eccetera insomma va bene questi sono due orologi che diciamo ho preso perché sono stato contagiato da un caro amico giacomino quarzar che saluto della gang del mercatino di limbiate insomma quarzar che guarda anche lui i tuoi video quindi ne approfitto e niente quindi questi quali uso sostanzialmente quando sono di fretta che prendo un orologio non ho voglia di star lì magari a caricare eccetera non ho neanche il tempo li prendo li metto al polso ed esco sempre pronti tranne quando la batteria infingarda ti molla sul più bello perché tua nemica poi ti voglio far vedere anche questo cronografo seiko il 6139 la referenza è la 7002 bellino questo è bello anche questo qui insomma anni 70 ho già un altro seiko col 6139 questo è tutto originale anche il bracciale il bracciale vedi come vedi il segno del tempo insomma cedevole però è bello è al polso è molto comodo per forza mi piace insomma lo uso abbastanza spesso ecco infine volevo io mi piace molto i cronografi e volevo un 7750 omega speed master e ho guardato in casa omega e ho trovato questo bellissimo speed master date che a me piace tantissimo color reverse panda da 39 mm mi sta bene anche al polso è un polso piuttosto piccolo e quindi me lo sento bene al polso insomma gli ho messo questo cinturino in pelle con le cuciture bianche che riprendono un po' il quadrante subcontatori del quadrante è bello insomma c'è anche il suo bracciale tutto il corredo eccetera mi piace insomma uno dei miei pezzi migliori della collezione direi di sì basta il video è finito io ti ringrazio anche Andrea ti saluta ciao Andrea e alla prossima dai grazie ciao love 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 e niente simpatica collezione un po' parca di contenuti nel senso che di numeri intendo dire no non sono tanti bello e se 139 è veramente bello e fa piacere che lo indossi anche con piacere quotidianamente perché insomma quando uno si trova di fronte a un vintage di quella caratura lì magari tende a preservarlo senza esporlo ai inutili rischi no però è anche bello indossarli cioè anche 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 per l'orologio stesso no va in giro qualcuno lo guarda e lui si sente più contento se viene apprezzato no sempre chiuso tra le quattro mura e no portalo in giro bravo lo porto in giro l'ultimo l'omega speedmaster lì il date con l'automatico 7750 è un orologio che ho sempre tenuto sott'occhio anch'io poi non l'ho mai comprato non lo compro perché cosa faccio 30 passare orologi me ne metto un altro lì a prendere la polvere solamente perché mi piace poi magari un giorno lo prenderò poi c'è anche una cosa che mi frena un pochino mi sembra a me che se non mi sbaglio il passo ansa del cinturino è da 18 è un po' un po' un po' stretto un po' piccolo al polso mi faceva quell'effetto un po' troppo 18 su 39 di cassa 20 mm sarebbe stato meglio poi non siamo mai contenti se la cassa 39 è se fosse stata 38,5 centurino da 18 da 20 da 19 19 5 cioè siamo veramente come furio e magda no va bene comunque se è promosso soprattutto perché c'è l'andrea lì che va come un treno bravo andrea bravo continua così ciao davide un saluto a tutti gli amici del canale mi chiamo Michael abito in provincia di Genova ti volevo mandare un video con tutta la mia collezione di orologi porti qualche domanda a termine del video vai spara tutto allora iniziamo con questo caso digitale comparto in adolescenza funzioni cronometro sveglia timer eccetera eccetera l'ho usato per andare al mare o in palestra ultimamente lo uso poco ma lo tengo per ricordo ecco a volte io ci penso no ho usato per andare al mare per andare in palestra io ci ragiono sui miei orologi non ho 30 li vorrei indossare anche di più contando anche i vintage li vorrei indossare tutti no tutti al più possibile perché mi piacciono tutti e quindi ci vuole anche il tempo non basta una vita no allora se io già mi precludo determinate situazioni a quando vado al mare mi metto il plasticone quando vado in palestra mi metto il plasticone e siamo rovinati allora io quando vado in palestra mi metto lo speed master quando vado al mare mi metto il seamaster dell'omega hai capito cioè almeno me li godo li utilizzo li vivo poi anche altri ma insomma orologi a cui tengo che mi piace avere che mi piace che condividono del tempo con me ok pensa un po se ora mi dovessi mai prendere un un caso digitale per andare in palestra che così tengo i tempi e poi un altro caso per andare un g shock per andare al mare e quando li indosso con gli altri mai perché un giorno vado in palestra un giorno vado al mare un giorno faccio un lavoretto un giorno no qua me lo rubano non li indosso mai e cosa cavolo me li compro a fare gli orologi capito è questo che io vorrei cercare di far capire utilizzarli proseguiamo con questo caso edifice sempre cronografo a batteria bravo una referenza che c'è da fuori produzione molto ricercato ultimamente dai appassionati come tutti i casi edifice qualità prezzo imbattibile tutte le sue funzioni con la data eccetera eccetera ok trova un orologio gradevole gradevole con un dial di buona lettura ma certo poi proseguiamo con swatch per omega vabbè se già cosa ne pensi non mi sto a dilungare ma no ho cambiato il cinturino ho messo questo in silicone ad alternare al suo in velcro anche questo lo porto quando voglio un orologio senza sentire il peso al polso perché essendo di plastica sappiamo che al polso è come non averlo proseguiamo con un altro seico sempre cronografo a batteria a batteria speed timer prospects colorazione panda panda con la riserva solare lo trovo un orologio eccellente qualità prezzo poi ha un lag to lag contenuto e una cassa da 39 che sul mio polso da 17 e mezzo veste molto bene meno male infatti il mio daily watch lo porto con piacere ogni giorno questo qua è il daily watch è un quarzù vabbè bellino un quarzù poi per andare al mare e in palestra usi il g-shock quando vuoi un orologio leggero metti il mousse watch di plastica cioè per ora usi questi poi magari ce n'è qualcuno più pregiato è quello libero lo tengo lì lo tengo lì e qua uno scappellotto ma di mano rovescio qua dietro gli si deve usateli sti cavoli orologi seguiamo i diver adesso questo seico samurai o versione save the ocean con questo dial degradé da blu che diventa praticamente nero con questo qua non c'è andare al mare e vacci con il g-shock al mare questo qua non c'è andare perché perché si rovina se no perché non l'hanno costruito apposta per andare in acqua per sguazzare no 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 mettete il g-shock mettiti che così a batteria è un orologio ovviamente di presenza è sempre comunque un diver molto particolari carini questi inserto ghiera e la corona antracite ci piace ovviamente un orologio massiccio deve piacere ma particolare però un icona seico è bello da avere in collezione cielo cielo collezione nascosto un altro orologio da avere in collezione seico secondo me appunto questo seico monster è anche questo versione save the ocean con questo dial che non so se si riesce a vedere ai pinguini in rilievo in questo quadrante che sembra quasi scolpito veramente bello forma particolare anche questa deve piacere non è per tutti però anche questo lo trovo un diver che che è appassionato di seico di seico deve avere ma guarda a riguardo delle forme adesso mi prendi proprio veramente sono nel mio splendore massimo magno dell'idea delle forme strane perché una volta se mi facevi vedere questo qua o il samurai il samurai tanto tanto me li facevi vedere questi seico qua e ti dicevo quel seico come sono adesso mi piacciono un casino questi orologi qua questi samurai anche il tuna anche il tuna mi piace che è veramente strano no però veramente un oggetto ora però io ti vorrei dire che te già secondo seico che passa e non è e non mi hai ancora detto questo qua lo uso per questo qua lo uso per niente questi qua sono belli da avere in collezione detto cioè vuol dire sono belli da tenere lì dentro la teca e qua dopo parte lo scappellotto davvero niente proseguiamo con l'SKX ma non te lo metti ce l'hai anche tu ma non le dossi non ti che mi sto a dilungare un bracciale economico molto comodo ecco una cosa che ho notato che a differenza degli altri bracciali fatti a maglie così i bracciali il giubilì tendono a far sentire meno la presenza dell'orologio al polso questa è la mia sensazione è proprio la natura del giubilì che deve essere così che è più frastagliato frastagliato frammentato frammentato con piccoli segmenti qualsiasi bracciale con piccoli segmenti è più comodo avvolge meglio il polso poi stiamo parlando anche solitamente questi qua degli SKX diventano così no altro che Rocco si freddi proprio moscio 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 così è veramente lasco e al polso sembra di non averlo sembra altamente di non averlo che però te non lo indossi perché se no si rovina si rovina no io ce l'ho ce l'avevo l'ho venduto ce l'avevo ma cavolo ci ho fatto un'estate al mare alternandolo con altri perché se no gli altri si offendono però ci sono andata al mare ma c'è anche te usa gli stirologi danno un senso di meno robustezza però di più comodità questa è la sensazione che provo quando porto orologi commerciale giubili come anche questo ho tenuto molto bene non lo usano gli orologi hanno scatole garanzia lì da parte a me piace comprare gli orologi anche se usati averli sempre full set con tutto il corredo bravo non non usarli però è proseguiamo un altro diver seico questo è il tartal prospects che è bello e ridizione 1968 è un tartal dalla cassa di dimensioni più contenuta rispetto ai classici tartal padi o altri 41 mm anziché 44 mi sembra gli altri questo lo hai recensito anche te se non sbaglio forse era un'altra colorazione si trovo davvero un bel orologio un'ottima vestibilità e questa diciamo tipo di costruzione con cassa e fondello lo fa sembrare al polso molto più sottile di quello che è colorazione stupenda leggibilità ovviamente altissima bravo indice a contrasto lo trovo davvero un orologio spettacolare proseguiamo con l'ultimo diver o siti sempre master full lume va bene utile starsi a dilungare ce l'avevi anche tu l'estate bravo questo cinturino giallo anche se non è un giallo diverso però poi una volta montato al polso fa il suo effetto ovviamente ho copiato alla tua idea bravo niente anche questo è un orologio che ho portato parecchio al mare o meno male niente leggero comodo d'effetto un bel orologio è certo ma certo ultimo orologio che probabilmente mi criticherai cos'è è questo rolex dei just 1601 acciaio oro ovviamente un orologio vintage che ho cercato appositamente per avvicinarmi al mondo rolex ho cercato proprio così acciaio e oro quadrante bianco quadrante 36 mm certo lo cercavo proprio così appunto per avere un orologio elegante e sportivo ma non troppo perché comunque penso che sia anche un orologio molto elegante se ovviamente conosciamo tutti i limiti di un orologio vintage quindi inutile farlo a far vedere però la clasp ovviamente è l'amierino leggero il cinturino si è a maglie piene però è molto leggero quindi i finali ma anche ovviamente laschi che un orologio vintage ai suoi limite alle resistenze all'acqua non può essere usato proprio tutti i giorni però l'ho voluto comprare per avvicinarmi al mondo rolex ad un prezzo ovviamente molto inferiore ai rolex moderni e comunque avere un orologio di qualità ed elegante beh bello molto molto io avevo fatto anche un video dove dicevo non comprate i rolex vintage era una provocazione nel senso che avevo messo in evidenza tutte queste piccole debolezze degli orologi di 30 40 50 anni fa cosa volete erano erano fatti così l'amierino della chiusura i finali guardate sono laschi cioè si staccano leggermente la cassa perché sono vuoti l'impermeabilità sarà quella che sarà il bracciale sarà stanco tutto piegato perché non perché uno non può fare un acquisto consapevole ma perché tante persone tanti neofiti tanti vogliono il rolex no il rolex per apparire quindi ordinano in base al prezzo no sui noti siti di vendita vedono quello che costa meno anche se del 62 lo comprano pur di avere un rolex e poi si ritrovano con un orologio che non corrisponde alle aspettative che avevano tutti dicono rolex di qualità diciamo come ma perché così ma perché sto qua è leggero ma perché qua si stacca ma perché non tiene il tempo ho capito te l'hai acquistato sapendo cioè già gli orologi degli orologi l'hai acquistato consapevolmente quindi hai fatto bene hai fatto bene ad acquistare un orologio che non è come quelli moderni cioè non c'è le stesse caratteristiche meccaniche proprio intendo dire meccaniche di quelli moderni ma è fatto bene bello comunque questo rolex so cosa ne pensi sui vintage rolex però io ho voluto azzardare questo acquisto è fatto bene è fatto bene niente la mia domanda appunto adesso vorrei diciamo budget permettendo acquistare un omega speed master e un rolex moderno ovviamente più sportivo di questo magari un explorer o una modello simile niente ti volevo appunto chiedere cosa ne pensi della di tutta la mia collezione faccio una panoramica così velocissima un saluto di nuovo a te tutti gli amici del canale love 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 cosa ne penso penso che i primi tre orologi al quarto a batteria mi hai detto che li utilizza dappertutto poi si è arrivato ai seiko che sei un amante di seiko si vede con dei bellissimi diver creati apposta per il mare e non menzioni assolutamente il fatto che li usi quindi io ti dico usa di quelli e lascia nel cassetto gli altri poi ti sei salvato col citizen che questo l'ho usato al mare è meno male almeno un giapponese da usare al mare l'hai preso se no poi chiaramente anche il il day just lino non lo utilizzi tutti i giorni non utilizzi come fosse come se non ci fossero domani quindi anche quello lì da parte ecco io è sempre invito le persone a utilizzare gli orologi anche di pregio perché altrimenti si offendono cioè cose cosa li prendiamo a fare per portarli nella tomba dentro la cassaforte in cassetta ma cosa poi cosa abbiamo fatto piuttosto che si rovini che si rompa ma almeno c'è fatto qualcosa come il divano non mi siedo sul divano perché nuovo allora sentiti per terra e il divano morirà quando ti muore il divano è nuovo e se muori contento ma cosa vuoi che ti dico poi il discorso di prendere un rolex moderno lo speedmaster e fai bene speedmaster va benissimo io dopo un primo momento di titubanza ormai sono completamente innamorato del mio speedmaster ora che c'è anche il cinturino lì in nabucco nabucco donosoro poi ho trovato anche la collocazione proprio perfetto non lo venderò mai però l'ex nuovi cosa vuoi prendere explorer va benissimo se no ti consiglio di andare a ordinarlo in negozio addirittura perché ormai si trovano basta aspettare se trovano o a meno che non lo trovi quello di da 40 usato a meno del prezzo di listino perché potrebbe anche capitare se dovesse capitare sennò prendere più del prezzo di listino no non lo fare io l'ho sempre presi sotto il prezzo di listino limite a prezzo di listino non ho mai però capisco che bene che se uno lo vuole a tutti i costi deve spendere quei 500 euro in più gli spendi si sta bravo dai si è promosso poi si disena c'è un po così quindi no prossimo video buongiorno davide buongiorno come stai bene bene grazie enrico dal nord italia bravo prima di tutto ti ringrazio per la tua rubrica prego noi possiamo mostrare i nostri pregi e difetti le nostre gioie e valori bravo come se drammatico allora partiamo da un omega seamaster bello edizione peter blake mi piace tantissimo questa è l'edizione che preferisco top perché è più sottile sì e più piccolo rispetto a quelli odierni fantastico e quelli di quei ma tutti gli orologi anche l'acquaterra o il constellation tutti erano più sottili perché partivano come base dall'età 28 92 ora o che questo è il 28 92 vero e proprio chiamato omega 1010 se non mi sbaglio oppure il primo quassiale 2500 che è sempre su base è tra 28 92 erano più sottili erano più sottili poi dopo quando hanno iniziato a fare il calibro 8500 che è completamente realizzato attorno allo scappamento quassiale da zero 8500 8800 9 bla 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 hanno aumentato lo spessore leggermente niente di che però si nota e a me piacciono questi qual 22 54 il 22 53 di omega poi ci sono anche i gmt che sono particolari sempre di questa razza qua bello orologio bravo poi passiamo ai pezzi forti anzi una rarità una rarità questo addirittura luccica top rolex 17 014 oyster quartz e cosa si questo rollo è il quarzo e rolex ne ha fatti veramente pochi di questi all'epoca questi che sono meno di quelli automatici questo l'ho appena fatto revisionare revisionare da rolex è come un uovo e al polso è come il velluto è il velluto questo orologio a 40 anni e ho capito e la cosa emozionante a un battito animale non so se si riesce a sentire no il ticchettino e ticchettino e ticchettino del quarzo del quarzo tic bravo poi andiamo dritto con il super hulk boh bellino che con l'ex 16 16 10 bravo come come se lo quace questo è il quadrante l'ultimo quadrante delle delle tre serie fatto da rolex allora è quello che mi casa è il suono della ghiera al movimento potrei farlo tutto il giorno bravo stai a farlo va è un orloge che parla parla da solo auto colloquiante il fratello maggiore o cos'è forse il mio preferito rolex 11 66 19 lb cosiddetto smurf e loro bianco puffo dal colore del quadrante della ghiera questo è un blu unico ha delle sfumature addirittura delle di viola mi e dai questo orologio emoziona sì ma parla però questo orologio è in acciaio ma l'acciaio anzi questo orologio è in oro bianco e te l'ho detto io pesa però è top come un orologio bravo bravo il fingardo un pezzo forte sì ma dici qualcosa perché sennò ci addormentiamo sky dweller questo non mi piace niente non ti do il blu niente top no questo ha tutte le funzioni questo è il considerato rolex più complicato pensa un po te come si è ammessi ed ha cambiato il cinturino e messo un rubber band che secondo me ancora accenta di più le caratteristiche dell'orologio bravo speriamo che finisci presto perché un altro dei miei preferiti cos'è detto una bella su 11 65 20 65 da itona naturalmente con ghiera in acciaio quella che preferisco rispetto a quella in ceramica che secondo me troppo dal giocattolo questo è un eleganza sportività e senza e senza bravo e come puoi vedere all'errore e ph che sui quadranti neri più valorizzato rispetto ai quadranti bianchi che pare con queste queste valorizzazioni però penso uno dei più orologi più confortevoli al polso ma ci sta ci sta poi un investimento mi dispiace farti vedere le etichette o stickers come si chiamano però questo non so se li tolgo o non li tolgo questo l'ho tenuto sugli stickers perché l'ho acquistato il giorno del mio compleanno e quindi il topo gli ho dato l'ottengo più nuovo che posso fino a che un giorno lo metterò sono sicuro che cazzate questo con l'errore su quadrante hp fantastico però il quadrante nero più aggressivo non me ne vogliate se io sono cinico no che sto commentando anche un pochino malvolentieri a parte che proprio che non sei un trascinatore se proprio veramente come dire lento non dici niente se potremmo dire mille cose su ogni orologio ma poi le pellicole poi un giorno lo indosserò forse l'errore su quadrante veramente sono cose che mi allontanano da da rolex perché poi sono gli appassionati intorno che gli fanno tutto questo questa aura perché sennò per loro se sbattono assai l'errore sul quadrante il quadrante l'ultimo quadrante mark 4 queste cose qua veramente a me lasciano il tempo che trovano cioè rolex mi piacciono perché sono orologi fatti bene fatti bene ma mi importa la seppia se c'è l'errore sul quadrante il 3 rovesciato il 4 questo è più raro questo è più lo compro per indossarlo perché mi piace perché è fatto bene e lo uso qua ci lasciamo anche le pellicole sopra dai non mi piace sta cosa qua l'ultimo acquisto cosa sarà un rolex questo è diverso da tutti gli altri questo è un animale diverso il codice 11 59 questo ha troppe innovazioni che ha subito che mi ha subito acchiappato sei uno dei pochi eh non c'è nessuno da come vuoi vedere il quadrante è spaziale bellino spaziale mo e non solo il quadrante ma il vetro ha delle curvature che rende il quadrante come se galleggiasse all'interno dell'orologio vediamo se riesco a darti l'effetto una cosa incredibile sì la cassa è un gioiello di ep questo non è molto apprezzato attualmente dai collezionisti no non piace però è molto apprezzato da me bravo meno male e con questo questo me lo metto al posto ti saluto e ti auguro un buon anno buon anno eccolo qua si è messi così buon anno il top bravo ciao Davide ciao a me non mi sembra niente di che mi sembra un orologio normale come tanti altri eh cioè io tutti quei soldi con l'automar pighe lì non ce li spenderei ma cioè sono di altri poi c'è tutta una collezione piena e poi questo è uno di quegli orologi che non ha avuto successo non piace a nessuno e lo comprendo io quindi è abbastanza sottovalutato diciamo così però mi sembra davvero visto a me io non vorrei sbagliarmi al polso di Paolo Bonolis no facciamo così in uscita durante la trasmissione che fa da lontano mi sembra che lui abbia questo demore pighe qua eh c'ha anche il Royal Oak e ne ha altri no avrà una bella collezione ma mi sembra di aver capito che abbia anche questo modello qua poi gli altri tutti i Rolex bellissimi tra i quali quello che mi piace di più devo dirlo è il Daytona 116 520 quello lì mi piace con il quadrante nero veramente poi uno di quei uno di quando si dice i cronografi no che sono tutti spessi il Daytona per esempio è uno di quelli sottili di quelli che ha il polso fa la sua bella figura io non lo comprerei non mi interessa non mi interessa non mi va non troppo mainstream non non mainstream quando intendo mainstream non intendo dire tra gli appassionati no? tra gli appassionati c'è un sacco di orologi mainstream ma tra anche quelli che non capiscono niente di orologi che vogliono solamente farsi vedere che vanno a uomini e donne e c'hanno il Daytona poi che sia vero o falso e c'hanno il Daytona così capito? proprio veramente uno uno stato simbolo per far vedere per farsi vedere quindi non ci riesco non ci riesco comunque dai sei promosso perché tutti i orologi mi... se imparassi anche un pochino a esprimerti meglio no? a dirci cosa provi perché li hai scelti quale... ma però non è che si può chiedere più di tanto alle persone d'altronde capisco che i limiti sono i limiti prossimo video ciao Davide sono Rambaldo da Civitavecchia e Rambaldo di Orologi intanto ti ringrazio per tutto quello che fai per noi e ti presento subito la mia collezione vai sono stato indottrinato da mio nonno per questa passione e da circa un anno che ho cominciato a collezionare gli orologi il primo orologio che ho preso proprio quello che aveva mio nonno ed è questo Citizen Aqualand a cui ho montato questo Zulu e mio nonno aveva anche un Omega tutto d'oro ma quando è morto l'ha regalato a mio cugino ciao nonna poi ho preso questo Seiko Tartle Say The Ocean bello questo orologio nonostante dimensioni è veramente comodissimo si mi piace ed è sempre molto bello molto bello sono promosi tutti i secchi mi piace poi 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 ho preso questo squale 15-45 30 Atmos la cosa che mi fa impazzire di questo orologio è che a parte che è 40 mm è comodissimo bello e poi la ghiera in acciaio è veramente stupenda mi piace tantissimo è molto bello e poi nella mia top 3 degli orologi ho preso questo Oris Big Crown 36 mm guarda un po' non ero più abituato a vederli con il bracciale a forza di vedere il mio cinturino cinturinati perchè per la maggior parte quello bracciale sta proprio bene sta proprio bene ma e l'ho preso braccialato perchè poi se voglio io posso comprare un cinturino di pelle certo guarda ha delle rifiniture bellissime bellissime e per me vale molto la pena 36 mm io ho vabbè ho un polso A16 però non me ne frega niente ho anche orologi molto grandi poi 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 un altro orologio che tu conosci benissimo è un orologio che mi emoziona sempre il polso ho preso Oris Diver 65 acciaio in bronzo è uno dei miei preferiti è veramente stupendo è un bel orologio sono innamorato ogni volta che metto questo orologio me ne innamoro come se fosse ragazzi i 65 hanno veramente azzeccato tutte le proporzioni dell'orologio cioè è sottile al polso è sottile è fatto bene con quella ghiera piccolina rispetto al quadrante 40 mm poi c'è anche la 38 adesso ultimamente coronavite senza le spallette questo bracciale con i grivettini lì finti per bellezza poi nella versione qua acciaio e bronzo è il massimo però anche nelle altre versioni è bello c'è un bel orologio se può tenere anche il tempo decentemente il mio fa più 12 secondi al giorno ma va bene così va bene così questa è la prima volta e già sta girando poi l'ultimo che è il mio orologio preferito il mio orologio che più mi rappresenta di cui sono veramente stra-innamorato è questo Doxa sub 300t preso da buon Giacomo ed è veramente tanta tanta roba e beh ok Davide qui sono i miei orologi spero che la mia collezione ti sia piaciuta yes ciao e grazie ciao ciao grazie a te ora guardavo qua l'ultimo sub lì della Doxa mi sembra che in questi giorni è uscito il modello da 39 mm del sub il sub 200 da 39 mm con la cassa però del 300 una roba del genere proprio oggi dovrebbe essere uscito mentre sto registrando quindi non sono ancora bene ferrato va bene comunque ve lo farò vedere se sarà il caso beh gli orologi cosa vuoi che ti dico due minuti di video abbastanza veloce mi sono rimasti impressi sia il Diver 65 che il Doxa poi chiaramente anche sei chini prima si va bene tutto bene bravo grazie per aver mandato il video e buon anno anche a te buongiorno Davide sono Andrea Sesso San Giovanni ciao Andrea un saluto a te e a tutti gli utenti del tuo canale grazie oggi volevo mostrarti un orologio che da poco è entrato a far parte della mia collezione si tratta di uno svegliarino Omega MemoMatic orologio prodotto tra il 1969 e il 1974 da casa Omega ha la particolarità che è è della serie Seamaster ha una cassa a cuscino con questo pulsante che serve a pressione per cambiare la data il calibro che monta questo svegliarino è un Omega 980 che deriva dal Lemania 2980 Omega ha fatto sì che questo orologio avesse due particolarità importanti la prima è che la sveglia si potesse settare sia a livello di ora che a livello di minuto la seconda che la stessa suoneria si potesse caricare non manualmente con un bariletto dedicato come tutti gli altri svegliarini ma attraverso un bariletto solo che viene caricato dal rotore automatico che serve a caricare l'orologio stesso per quanto riguarda il settaggio dell'ora adesso ti mostro come avviene questo pulsante a pistone ha tre posizioni la posizione 1 base la posizione 2 di attivazione della sveglia e l'attivazione 3 che permette il settaggio dell'ora e dei minuti con la corona vado sia in senso anti-orario che in senso orario non c'è problema a decidere quando la sveglia suonerà la mettiamo alle 4.40 perfetto riposiziono il pistone in posizione 1 e a questo punto qua attivo la sveglia portando il pistone in posizione 2 adesso per far vedere il tempo che scorre con la corona muovo le sfere dei minuti e delle ore vado avanti tempus fugit e piano piano si arriverà all'orario desiderato impostato come si vede l'orologio suona la suoneria durerà circa 10 secondi poi automaticamente si spegne perché in questo modo l'orologio preserva la carica per eventuali nuove impostazioni che potrebbero essere effettuate successivamente io ti ringrazio come sempre del tempo che mi hai dedicato spero che questo orologio possa essere stato di interesse e ti saluto e saluto tutti gli utenti del canale ciao ciao interessantissimo questo video grazie mille allora in pratica eh sì perché praticamente gli svegliarini gli svegliarini che conosciamo noi ci saranno sicuramente anche altri però la maggior parte hanno un'unica lancetta per per impostare il momento in cui deve suonare l'orario quindi se deve essere le quattro e un quarto devi azzeccare con l'unica lancetta il punto giusto quindi approssimativa in questo metodo qua va a segnare proprio i minuti precisi cioè il minutaggio preciso nel quale deve suonare ed è comodo utile interessante mi immagino che quei tempi lì sarà stato anche qualcosa di particolare e poi sì è vero come dici te perché solitamente la carica per la per la sveglia chiamiamola così si dà con un altro bariletto con una no caricando la la corona a volte anche il senso contrario no la stessa corona carica un bariletto il contrario l'altro e quando quando scatta la sveglia di solito suona fino ad esaurimento del bariletto lo sentite proprio che va a smorzarsi no piano piano in dissolvenza al suono in questo caso dieci secondi e poi si ferma è proprio un tempo preciso in modo da continuare ad avere la carica visto che un solo bariletto che manda avanti tutta la baracca deve averlo no è interessante io ti ringrazio perché non è la prima volta che mandi questo tipo di video e come vedete in questa rubrica abbiamo il piacere di avere il simpatico quello che ci istruisce no quello che ci rende edotti quello che mostra gli orologi costosi quello che mostra gli orologi entry level ce n'è per tutti i gusti c'è posto per tutti mandate i video basta che non mi dite buon anno boh mi sembra di aver detto tutto io vi ringrazio per essere arrivati qua spero vi sia piaciuto il video con il video con gli orologi e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qua su youtube BoH ? 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